Siamo al ristorante Derna con Marco Luigi che giovedì prossimo saranno ospiti alla prova del cuoco per la finale della prova del campanile e sfideranno un altro ristorante di un'altra regione. Chiediamo se sono emozionati per questa finale. Emozione c'è sempre, però siamo belli carichi perché vogliamo far far bella figura a tutta la Valdossola e alla nostra provincia. Quindi noi contiamo in particolar modo su chi guarderà la trasmissione, sul televoto e anche su chi non potrà guardarla perché comunque ormai i messaggi si possono anche programmare. Siamo carichi e emozionati sempre perché comunque non è il nostro ruolo quello di trovarci davanti a una telecamera e di conseguenza un po' di tremarella c'è sempre. Però quella tremarella giusta che è quella antrenarina che ci dà la convinzione di far bella figura. Allora possiamo fare un appello a tutti gli ossolani perché giovedì votino, mandino un messaggio davanti alla prova del cuoco perché possano far vincere Marco e Luigi. Sì, cinque volte si può votare, quindi votate cinque volte a tutti. Sì, cinque volte a tutti.